Salve a tutti amici e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi vedrete parlare leggermente vicino al microfono perché sto registrato con questo. Siamo qui in una nuova forma e in una nuova veste per fare un tutorial. Oggi andiamo a lavorare su Adobe Premiere Pro. Questo tutorial non fa parte del corso Adobe Premiere Pro che, come molti di voi si saranno accorti, si è interrotta, questo perché prossimamente arriverà la serie completa, ma ve ne parlerò più avanti. Per ora andiamo a vedere una cosa che mi hanno chiesto alcuni di voi nei commenti. Come gestire in timeline i file, le clip video, che hanno frame rate variabili. Quindi se giro a 50 fps, come faccio ad ottenere, a gestire il materiale ed ad ottenere il risultato voluto, ossia rallentare l'immagine all'interno della mia timeline? Bene, andiamo a vederlo perché ci sono due o tre modi per poterlo fare. Partiamo dal presupposto che tutto dipende talvolta dalle impostazioni che noi diamo, sia alla nostra sequenza che nell'ingest dei nostri materiali. Ingest, per chi non sapesse il termine in inglese, significa l'acquisizione dei nostri materiali all'interno del nostro software. Ho importato all'interno del mio progetto due file. Uno ho girato a 25 fotogrammi al secondo e l'altro ho girato a 50 fotogrammi al secondo. Questo per spiegarvi quelle che sono le differenze. Come vedete non ho ancora creato nessuna sequenza. Questo perché lo andremo a fare insieme? Partiamo dal concetto di base. Io ho importato, come detto, due clip. Uno a 25 fotogrammi al secondo e l'altro a 50. Qual è il mio obiettivo? Il mio obiettivo, quando ho registrato a 50 fotogrammi al secondo, era quello di poter ottenere due tipologie di immagini. Ossia, sia quella che vada a 50 fotogrammi al secondo, quindi in tempo reale, sia a 50 fotogrammi al secondo per poterlo rallentare su una timeline a 25. Il concetto da capire è come noi vogliamo gestire il materiale. Ossia, se il materiale che noi giriamo vogliamo utilizzarlo in playback normale, quindi in tempo reale, lo gireremo con un determinato frame rate. Se vogliamo ottenere dei rallenti, dobbiamo girare con un altro frame rate. Ecco perché utilizzare frame rate variabili. Quindi se noi giriamo un parlato, in questo caso sto girando a 25 fotogrammi al secondo il parlato. Se io un'azione avessi girato a 50 fotogrammi al secondo, potevo rallentarlo. In che modo? Mettendo in play quel filmato a 25 fotogrammi al secondo. Mi spiego che cosa significa. Se io utilizzo una sequenza a 25 fotogrammi al secondo, quindi andiamo su file, nuovo, sequenza, e prendiamo una qualsiasi sequenza a 25 fotogrammi al secondo, questa metterei in play 25 fotogrammi al secondo. Quindi fa esattamente quello che dice. Quindi se io prendo la mia clip girata a 25 fotogrammi al secondo, in questo caso lui mi chiede di cambiare le impostazioni e la sequenza perché la clip è girata in 4K, ma io faccio avanti le impostazioni esistenti. Certo esce il mio faccione che non è un bel vedere, ma andiamo avanti. Se io metto in play questo video, questo video sarà messo in play a 25 fotogrammi al secondo. Perché la clip video è registrata a 25 fotogrammi al secondo e special modo la sequenza è 25 fotogrammi al secondo. Se io metto in timeline il video girato a 50 fotogrammi al secondo, il video scorrerà naturalmente, ossia in tempo reale. Ma perché se io inserisco un file, se io inserisco una clip girata a 50 fotogrammi al secondo su una timeline da 25, questa non rallenta? Questo perché il file, la clip che noi abbiamo importato, gli abbiamo detto che deve essere messa in play a 50 fotogrammi al secondo. Ossia noi gli abbiamo detto che questa clip è girata a 50 fotogrammi al secondo e il sistema per metterla in play, metterà in play quel video a 50 fotogrammi al secondo. Nel nostro caso però noi l'abbiamo inserita all'interno di una timeline a 25. Cosa farà il software? In automatico converte da 50 a 25 in tempo reale, quindi ogni due fotogrammi ne toglie uno. Ma se io giro la 50, voglio vedere il video rallentato. Perfetto, ci sono due modi per poterlo fare. O prendiamo la nostra clip e la rallentiamo del doppio, quindi tasso destro sulla nostra clip, clicchiamo su velocità durata, questo pannellino mettiamo invece di 100% mettiamo 50. Così facendo adesso noi abbiamo preso la nostra clip e detto che deve essere rallentata del doppio. Ma noi abbiamo, per questa clip essendo girata a 50 fotogrammi al secondo, abbiamo il doppio dei fotogrammi. Quindi adesso nel momento in cui metto in play sarà messa in play a 25 fotogrammi al secondo, ma sarà rallentata. Un'altra cosa che voglio farvi notare è che se io prendo la clip girata a 50 fotogrammi al secondo e vado nel monitor sorgente, quindi una volta che ci ho cliccato due volte sopra, mi si aprirà il monitor sorgente, se io metto la clip in play questa andrà in tempo reale, perché come spiegato, Premier la riproduce a 50 fotogrammi al secondo. È come se noi avessimo una timeline a 50 fotogrammi al secondo. Quindi non può essere rallentata. Ed infatti, se noi andiamo nel nostro pannello di progetto, dove c'è scritto frequenza fotogrammi, troviamo la voce 50 fps. Questo ci fa capire che la clip è girata a 50 fotogrammi al secondo. E il software la interpreta come tale. Se io clicco col tasto destro sulla nostra clip e seleziono interpreta metraggio, se lo troverò mai, modifica interpreta metraggio, ci si aprirà un altro pannello che per voi adesso è enorme. Andiamo a ridurre. E qui ci dice frequenza fotogrammi. Usa la frequenza fotogrammi del file. Questo perché quando la telecamera, in questo caso una macchina fotografica, ha registrato il file, ha registrato anche un metadato, ossia un'informazione. Ha detto guarda che questo file che sto girando è girato a 50 fotogrammi al secondo. Quindi tu, quando lo metterai in play, dovrai metterlo in play a 50 fotogrammi al secondo. Questo naturalmente quando noi lo mettiamo in play su un player normale, quindi non all'interno di un nostro software, l'immagine sarà molto più fluida, perché la riproduce con il doppio dei fotogrammi. Se invece noi andiamo a presupporre, quindi cliccando sulla seconda voce, la frequenza dei fotogrammi a 25 e diamo l'ok, anche quando noi andremo all'interno del pannello sorgente e clicchiamo play, questa sarà messa a rallentire. Questa perché abbiamo detto a Premiere che questo file qui in particolare lo vogliamo riprodurre a 25 fotogrammi al secondo, ma lui ha il doppio dei fotogrammi e quindi in automatico la clip adesso è diventata molto più lenta. Quindi nel momento in cui faccio play la vedremo al rallentatore. Ed adesso, se io la trascino sulla mia timeline, la mia clip sarà il doppio, perché già sarà rallentata, senza bisogno di rallentarla nel processo di post-produzione. Attenzione, se io in questo momento vado a rallentare ulteriormente la clip, quindi la rallento del 50%, io posso rallentarla ancora naturalmente, ma il processo che adesso avverrà è quello che fa Premiere con le clip girate a 25 fotogrammi al secondo. Quindi ogni fotogramma verrà intervallato da un'interpolazione tra il primo e il secondo e così via tra il secondo, il terzo, il terzo e il quarto. Così da generare il doppio dei fotogrammi. Ma se giriamo a 50 fotogrammi al secondo, di sicuro quello che a noi basterà è raddoppiare la velocità. Insomma, io spero che questo breve tutorial abbia chiarito le idee che aveva questi dubbi a come gestire questa tipologia di materiale. Vi do un consiglio, quando girate dei video, normalmente quando giro dei video documentaristici, quindi il mio scopo sarà quello sia di vederli in tempo reale che alcune clip per rallentarle, io giro tutto a 50 fotogrammi al secondo e in fase di montaggio decido cosa mettere in play a 25 e cosa mettere in play a 50. Così facendo, quelle che ho messo in play a 50 andranno in tempo reale, quindi se ho anche un audio lo sentirò bene e chiaro, quindi se hai visto una persona. mentre se voglio altre determinate immagini girate nello stesso momento a 50 fotogrammi al secondo, le rallento del 50% così che ottengo il mio rallenti. Così facendo, è molto più comodo poter lavorare e non dover cambiare sempre le impostazioni quando si gira. Quindi, cos'altro dirvi? Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like. Se avete qualche altra domanda o qualche altro dubbio, potete tranquillamente commentare e io, come sempre, vi risponderò. Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video.